A Milano nel mese di maggio sta per partire un interessante e unico progetto di sviluppo professionale che si chiama BD Academy, rivolto a coloro che si occupano, che si vorrebbero occupare di business development nel settore della salute. Valeria, tre motivi per partecipare alla BD Academy? Allora, primo motivo sicuramente è l'acquisizione di competenze specifiche che sono frutto dell'elaborazione di un programma basato su contenuti del business development e quindi sicuramente si impara un mestiere. Secondo motivo? Secondo motivo è l'opportunità di networking perché comunque saranno coinvolti all'interno della scuola sia professionisti, sia professori che neolaureati e quindi è un momento di incontro molto importante per appunto sviluppare nuove conoscenze. E il terzo qual è? Il terzo è lo sviluppo personale, lo sviluppo imprenditoriale anche perché prima di tutto il business developer è un imprenditore dell'azienda e oltre a quello chi vuole, chi è interessato a svolgere un'attività in proprio e quindi sviluppare un suo progetto avrà sicuramente il modo e le tecniche per farlo.